ragazzi bentornati sul canale di dax e max quest'oggi come sempre si parla di mini 4 wd sport siamo qui con il primo di una serie di video tecnici vi faremo vedere quest'oggi i famosi e a grande richiesta cerchi ammortizzati stampati in 3d grazie al materiale flexible quindi a grande richiesta ve li schiaccerò così almeno si vedrà bene di che cosa di che pasta è fatto esatto ovviamente anche il calore gioca un ruolo importante perché più calore c'è e più è flessibile e quindi ovviamente d'inverno sarà leggermente più rigido e d'estate sarà morbidissimo come un burro no non è vero non come un burro però sicuramente lo sarà di più la forma ad elica come vi abbiamo già detto è fatta appositamente per accompagnare il movimento della gomma e ammortizzare e assorbire al più possibile la ghiaia i salti eccetera quindi questo è la nostra idea di cerchio ammortizzato stampato grazie anche al nostro marco di gm production link in descrizione per contattarlo ed eventualmente avere un treno o più treni di gomme fatte da lui e noi quindi corriamo subito a fare il drop test vai